Ed eccoci qua, nuovo appuntamento con la Rattia, in questo programma ascolterete tanta bella musica, tante belle canzoni e tanta bella musica, dischi. Cominciamo con la prima canzone di oggi a voi sentiamo questa telefonata, Blondo chi c'è? Benvenuti tutti ascoltati nella radio, vogliamo fare un programma interessante e bello. Ciao, sono il tuo amico della Rattia. Sono il tuo amico della Rattia. Ed ora, è ora un momento di, ora è un momento della pubblicità. Spazio ai nostri sponsor. Comprate gli jeans nuovi, gli jeans di mappe buone. Li trovate da Concetto Rannisi. Concetto Rannisi e quindi nel 1915 che hanno buttato gli jeans in Italia. In esclusiva per tutti gli ascoltatori il regalo un paio di scarpe che si apportiano sui jeans. Le prime scarpe di jeans. Taglia 42 e 38. Il piede dell'uomo raffinato è 42. Concetto Rannisi, jeans e scappe. Dal 1915 tante offerte per la famiglia e per tutto l'anno. Veniteci a trovare. Siamo in via Agosto 23 dietro il Cinema Ressis. Paccheggiatela senza metterla di fronte al ristorante. Che quello è un altro spot e lo facciamo diverso. Concetto vi aspetta. Se venite alle 3 vi offre un caffè. Vi aspettiamo. Veniteci a trovare. Siamo avverti solo il sabato e la domenica. Perché il signor Concetto dal lunedì al venerdì è in America per pegliare i jeans. Ciao. Grazie, ben tornati allo spazio della radia. Ora mettiamo una canzone e poi ci salutiamo. Disco, vreo, via! Grazie, ben tornati allo spazio della radia. Grazie. Grazie a tutti. 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 Scusate ma vi saluto ora e ci vediamo alla prossima puntata, grazie, arrivederci.